Vincenzo Manco, Presidente nazionale WISP. Come si inserisce la strategia dell'WISP all'interno delle direttive dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei Global Goals 2030? Al Congresso nazionale del 2017, come WISP, abbiamo scelto di porre le nostre politiche e la nostra azione quotidiana, la nostra proposta sportiva all'interno dell'Agenda ONU 2030, quindi dei 17 gol che lì sono indicati. Abbiamo promosso una serie di iniziative, tra cui il progetto Active Voice e quello che per esempio presenteremo anche come convegno insieme alla Regione Veneto il 22 di novembre, come dei momenti di riflessione e di confronto con le istituzioni locali, con le ASL, con i ministeri e con l'associazionismo tra l'altro anche di comunità per capire quali possono essere, non soltanto sul fronte sportivo, quindi della promozione del benessere come movimento e come diritto al movimento per tutte e per tutte, ma anche per influenzare sempre di più le opinioni dei vari stakeholders istituzionali del terzo settore e delle reti sociali della nostra comunità per raggiungere un obiettivo molto semplice, migliorare la qualità della vita delle persone, incidere sul benessere individuale e collettivo di tutti gli cittadini. Guardando agli obiettivi dell'OMS, che cosa può fare un corpo intermedio come la WISP nel rapporto con istituzioni e politica? Nell'aprile del 2016 come WISP abbiamo presentato al Parlamento italiano le strategie per l'attività fisica dell'OMS per la regione europea 2016-2025. Stiamo promuovendo, perché a breve lo presenteremo anche pubblicamente, avendo chiesto la possibilità di poter tradurre il famoso GAAPA, cioè il piano di azione mondiale conseguente alle strategie per l'attività fisica 2016-2025. La WISP come uno dei più grandi soggetti della società civile italiana, non soltanto in ambito sportivo ma come soggetto della promozione sociale, ha il dovere di agire nel rapporto con le istituzioni nazionali, Parlamento, Governo, Ministeri e con le istituzioni locali e intermedie come regioni e comuni per poter promuovere sempre di più un benessere dei cittadini e una salute di cittadinanza. Questo lo si fa se l'attività sportiva è resa accessibile sempre di più, diventa un diritto non soltanto enunciato ma anche praticato da tutte e da tutti e questo lo si può ottenere nel momento in cui le azioni e le politiche intersettoriali delle istituzioni e della società civile e della WISP riescono appunto a promuovere azioni concrete. Do tre spunti di riflessione che secondo me sono tre elementi molto importanti per valorizzare questa iniziativa che sono la prima cosa il convegno organizzato dalla Regione Veneto che però ha voluto e ovviamente ottenuto il supporto e la collaborazione dell'UISP anche nella fase organizzativa e non solo partecipativa e questo è il riconoscimento dell'importanza della trasversalità nelle azioni del sistema sanitario e quindi del coinvolgimento anche del mondo associativo. Noi ovviamente abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa e gli abbiamo dato un risvolto di carattere nazionale anche perché affronta dei temi molto importanti che poi troveranno riscontro nella scrittura dei nuovi piani della prevenzione regionali che partiranno dal prossimo anno e quindi essendo un modello strutturato, replicabile anche negli altri contesti territoriali siamo convinti che possa essere un punto di riferimento sicuramente per la Regione Veneto ma anche per le altre regioni italiane. Le convenzioni crescono, si è aggiunta qualche giorno fa la convenzione firmata Regione Basilicata alle altre sette nazionali, regionali, tutto il territorio nazionale ma la cosa più importante al di là della formalizzazione della convenzione ed è stato anche un elemento che ha portato al progetto Active Voice è quella di ottenere la possibilità di avere un riconoscimento da parte delle istituzioni e quindi di sedersi ai tavoli di coprogettazione e di costruzione delle politiche oltre che della parte di gestione operativa delle attività. Grazie